Sarà l'autopsia a fornire ulteriori elementi utili alle indagini e permettere una ricostruzione della dinamica dell'incidente avvenuto nel pomeriggio di giovedì a Otranto, in seguito al quale ha perso la vita Gil Torun, una turista norvegese, 62enne. La procura di Lecce, in quanto atto dovuto, è iscritto nel registro degli indagati l'autista del bus che ha travolto la donna. Si tratta di un 44enne originario del capoluogo salentino che, difeso dall'avvocato Giovanni Zecca, è indagato per omicidio stradale. Per il momento non viene contestata alcun aggravante in attesa degli esiti degli esami tossicologici e alcolemici a cui è stato sottoposto in ospedale subito dopo il sinistro, avvenuto all'incrocio tra via Martire Schito e la strada provinciale che conduce alle orte. Stando a quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale di Otranto a cui sono stati affidati i rilievi, la 62enne stava percorrendo l'arteria extraurbana verso la zona portuale quando, per motivi ancora da accertare, avrebbe perso il controllo della bici sulla quale viaggiava, sarebbe scivolata e avrebbe impattato contro un pullman che era in marcia in direzione opposta, travolta dal mezzo e morta sul colpo. Ad allertare gli operatori sanitari del 118 sono stati gli amici della vittima, tutti di nazionalità norveggese, i quali stavano soggiornando nella città idruntina per alcuni giorni e nel pomeriggio di giovedì scorso avevano deciso di fare un'escursione in bici, risultata fatale per la loro amica. A bordo del pullman invece era presente una comitiva di turisti francesi, i quali, subito dopo il sinistro, sono stati trasferiti su un altro mezzo e trasportati in una zona sicura. I familiari della vittima rappresentati dagli avvocati Mario Blandolino e Giuseppe De Cicco hanno nominato la dottoressa Ilaria De Fabrizio quale consulente di parte in vista dell'autopsia che potrà fornire maggiori dettagli riguardo il sinistro mortale e valutare eventuali responsabilità.